Salve a tutti i ragazzi e gli spettatori, sono Chiara di Radio Lasagne Verdi, su Radio Panetti e con me c'è la mia socia, collega di avventure, Alessia. Ora siamo qui con Angelica Bartolomai, project manager di StartNet Italia. Buongiorno. Finalmente siamo arrivati alla presentazione di questo manifesto, possiamo considerarla un po' come la mamma di StartNet Youth? A me? No, ma forse ho accompagnato il processo, diciamo, fin dall'inizio, insomma era uno dei nostri desideri, insomma, di portare i ragazzi direttamente in StartNet, quindi la mamma no, no, la padrina, la madrina magari più che altro, la mamma più che altro forse è la nostra project manager per il progetto, Simona Ferrante. Però forse la co-ideatrice o la ideatrice, forse sì. Comunque stai accanto al progetto? Ma assolutamente, forse il nostro progetto è il, come si chiama, la cilegina sulla torta in questo momento, sì. Vabbè, comunque la madrina non è che è un brutto ruolo, eh? No, no, per carità. E quali sono state le emozioni nel formare questo progetto e soprattutto coprogettare insieme ai giovani? In questo momento quale sono? Le emozioni? Beh, le emozioni, in realtà nessuno di noi si aspettava un tale successo, quindi penso che siamo strafelici tutti quanti del successo che ha. molto fieri di voi ragazzi perché insomma in un periodo tra l'altro storicamente anche complicato di trovare tempo, voglia, passione, ma anche l'ottimismo di guardare avanti, no? Di dire guarda, vogliamo costruire il futuro, non aspettiamo che lo faccia qualcun altro per noi. e quindi, sì, fierezza anche. Grazie mille. Ah, vuoi fare una domanda? No, 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 va benissimo così e per le prossime interviste. Ci sentiamo dopo, sempre su Radio Panetti.